Bentornati e parliamo dell'esordio del governo Conte, dei primi giorni di governo, incassata la fiducia e il momento dei primi banchi di prova. Oggi prima uscita pubblica per Luigi Di Maio che è stata l'assemblea di Confcommercio e poi ci sono tanti tanti impegni chiaramente che attendono il nuovo esecutivo. Di questo parliamo con il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Francesco Duva. Buon pomeriggio a tutti. C'è anche Stefano Cingolani, teorealista del Foglio che era già venuto ieri, ti abbiamo richiamato oggi perché ieri abbiamo sentito chiaramente tutto l'intervento del Presidente del Consiglio Conte. E tra poco andrò anche dal nostro Massimo Leoni. Parto da lei, Duva, onorevole Duva. Subito voglio partire da quella che è una questione probabilmente molto delicata per lei e voglio partire da quelle parole pronunciate ieri dal Presidente del Consiglio Conte in cui ha parlato di congiunto del Presidente della Repubblica. Lo racconto ai nostri telespettatori. Suo nonno, lei è siciliano, è stato ucciso nel 1986 dalla criminalità organizzata. Come siciliano, come nipote di una vittima della criminalità organizzata, come ha trovato quel passaggio di Conte? Guardo, io in generale devo dire che non è mai capitato che parlassi di mio nonno, quindi mi trovo anche un attimo in imbarazzo perché non è uno degli argomenti che... Lo so che è delicato, quindi massimo rispetto ci mancherebbe. Però visto che me lo sta chiedendo, mi è sembrato impeccabile il passaggio di Conte. Mi è dispiaciuto invece che dall'altra parte, da parte di un'opposizione in particolare, si sia voluto andare a strumentalizzare il fatto che al posto di nominarlo ha semplicemente detto un congiunto. Ma aveva dimenticato il nome, secondo lei cosa è successo? Un congiunto, come magari uno può dire, lei stessa non ha detto il nome di mia nonna, ha detto il suo nonno. Nino però, giusto. Sì, può capitare, però certo non credo che lei si volesse burlare. Non sono nemmeno il Presidente del Consiglio. Quindi come può vedere, molto semplicemente uno può dire il nonno, il congiunto e via così. Quindi mi è sembrata una polemica assurda e mi è dispiaciuto che sia stata strumentalizzata, ma ha causato anche rabbia in me che sono anche abbastanza mite, devo dire. Mite, perché così la definiscono, si ritrova in questa definizione. Sì, mi ritrovo, ma determinato. Determinato dalle idee che portiamo avanti dal 2007, da quando è iniziata questa avventura, con quelle che erano gli amici di Beppe Grillo, Parlamento, Seconda Legislatura. Siamo molto determinati per questo cambiamento. Per noi questo è da un lato un traguardo, dall'altro un punto di partenza, perché adesso veramente possiamo cambiare le cose ed è quello che vogliamo fare. Le sue priorità? Le priorità sono quelle che di fatto sono nel contratto di governo, perché le mie personali in questo momento sono quelle di riuscire a dare agli italiani la dignità che non hanno potuto avere in questi anni, in questi decenni. Sto parlando di emergenza lavoro. In questo momento noi con reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza possiamo risolvere tantissimi problemi. Sappiamo bene, io sono siciliano, che purtroppo al Meridione c'è un problema ancora maggiore di lavoro e noi possiamo risolvere questo proprio con reddito di cittadinanza. Perché? Perché noi vogliamo creare dei centri per l'impiego con questo nome, ma anche con questa funzione reale. E una volta che ci sono questi possiamo iniziare a offrire lavoro. Laddove non si riesce a trovare il lavoro si dà i reddito di cittadinanza. Le coperture però, perché questo è meraviglioso. Bisogna fare i conti? Certo bisogna fare i conti, io sono pure contento che li possiamo fare, perché questo governo ha un contratto, possiamo dire abbiamo detto cosa vogliamo fare e lei mi può fare questa domanda. Altre volte questa cosa non è stata possibile perché si presentano e improvvisano. Negli ultimi cinque anni sono stati spesi circa 100 miliardi di euro a regime in cinque anni. Bene, noi vogliamo fare la stessa cosa. In cinque anni il nostro contratto di governo prevede 100 miliardi di euro. Ci sono cinque anni, cinque leggi di bilancio in cui si possono fare manovre da 20 miliardi. Lei sa che per gli 80 euro di Matteo Renzi ci sono voluti 10 miliardi? Basta pensare questi, i redditi di cittadinanza ce ne vogliono 17, tra tax expeditur, tra la riforma Cottarelli, perché Cottarelli ha fatto un ottimo lavoro ed è stato mandato a casa dai vecchi politici. Riprendendo tutto quel lavoro si possono trovare i soldi ed è quello che vogliamo fare. Stefano. Ma dunque, io ho due domande avrei. Una, reddito di cittadinanza. Beh, intanto non è un reddito di cittadinanza. Intesso come quella di Alaska che si dà tutto in disposto. No, di cittadinanza vuol dire che se sei un cittadino italiano, ecco, ci deve essere una cosa. E invece è una indignità. Di dignità, chiamiamolo in questo modo. O è un sussidio di disoccupazione allargato, diciamo. Eh, niente, perché in realtà quella di disoccupazione tu devi essere disoccupato. Se sei inoccupato... Inoccupato, il sussidio di inoccupazione, diciamo. Vabbè, comunque, diciamo, precisato, perché, diciamo, da una parte c'è, no, la declamazione, il reddito di cittadinanza, poi sei buono e noi non lasciamo stare. Dall'altra c'è poi la realtà, la realtà è, diciamo, un legame ai centri dell'impiego, i quali finora non hanno funzionato. Ora speriamo che funzionino, siamo tutti, diciamo, da questo punto di vista, facciamo tutti il tifo finché li facciate funzionare, chiaramente, insomma. I costi, perché però cominciare? Lei diceva che non funziona, quindi bisogna far cominciare questa indennità. Quando, esattamente? Eh, chiaramente l'idea è questa. Se noi facciamo partire adesso, oggi, domani, i redditi di cittadinanza... Ci vuole un anno, un anno e mezzo, diciamo. Ci vuole un anno, un anno e mezzo, diciamo, sostanzialmente. Noi non vogliamo che sia un elemosino, come ci hanno voluto attaccare in campagna elettorale, un sussidio, diamo questo qui. No, serve a far ripartire tutto. Perché noi stiamo dicendo, intanto i centri per l'impiego, ti mettiamo in condizioni reali di trovare lavoro, non sei in queste condizioni... Noi Stato non si riusciamo... Piace, secondo lei, ai vostri elettori, il fatto che adesso, come priorità, diate il rinnovo dei centri per l'impiego? Ma era la campagna elettorale, era la campagna elettorale, è sempre stato così. Però, immagino, molti vostri elettori vi abbiano notato, soprattutto per il reddito di cittadinanza. Sì, il reddito di cittadinanza... In questi giorni si è parlato molto di rinnovo dei centri per l'impiego. Certamente, perché noi in campagna elettorale, quindi siamo molto coerenti con quello che dicevo in campagna elettorale, sempre. Dal 2013 a oggi lo siamo sempre stati. E dicevamo proprio questo. La prima cosa è i centri per l'impiego, in cui possiamo finalmente mettervi a tutti quanti alle condizioni di lavorare. Perché non è vero che ci hanno fatto però quell'accusa veramente offensiva, che il Sud ha votato 5 stelle perché noi reclamiamo il reddito di cittadinanza. Non è vero. Noi abbiamo spiegato molto bene che noi vogliamo fare in modo che tutti possano lavorare e se non riusciamo a far lavorare tutti, chi non può, avrà il reddito di cittadinanza. Ma noi siamo fiduciosi di riuscirci, ovviamente. Proprio perché il Sud vuole lavorare. Vogliono tutti essere messi nelle condizioni di trovare lavoro. Che ci siano state forme di assistenzialismo, però estremo a Sud, che lo si cerchi di più rispetto... Guardi, sono sarda, per cui non posso essere tacciata, come dire, di un atteggiamento. In questo momento ci sono, ovviamente, tante forme di assistenzialismo e sono assolutamente improduttive, non servono a poco perlomeno. Possono essere molto più utili se uno le mette in un calderone in cui tu puoi trovare lavoro a queste persone. Aiuterà a trovare lavoro. Ecco, lei ha detto, scusi, abbiamo 100 miliardi in 5 anni, si potranno fare 20 miliardi l'anno, adesso vedremo. No, appunto, il problema di trovare le risorse è il punto chiave. Di Maio ha detto, andremo in Europa a discutere il deficit, cioè, in sostanza, chiederemo più flessibilità, come aveva fatto Renzi. Questa è una cosa. Prima. Secondo, ieri ho sentito il Presidente del Consiglio dire, andremo a rinegoziare il debito. era un, diciamo, voleva dire deficit, invece ha detto debito, oppure vuole rinegoziare il debito? Beh, credo sia. È una cosa, diciamo, abbastanza complessa. È chiaro, è chiaro. Cioè, un po' di cose diverse. Il debito è sicuramente un pochino più, un po' più delicata la questione del debito. Però volete rinegoziare anche il debito, non solo il deficit. Una cosa certa è che bisogna partire dal deficit. Ma, al di là di questo, che poi a fine a casa nemmeno ci seguono bene, quello che è certo è che noi dobbiamo andare in Europa e non battere i pugni sul tavolo, fare come i pazzi, noi dobbiamo andare lì, in maniera calma, e spiegare che noi siamo l'Italia, che siamo uno dei paesi che contribuisce di più all'Europa, che diamo ogni anno 20 miliardi di euro all'Europa e che ne riprendiamo soltanto 10. C'è qualcosa che non va. Andiamo lì e vogliamo farci rispettare come paese soprano. Questo non sta accadendo, non è accaduto. Chi è andato in Europa finora non si è fatto rispettare. Queste sono cose che avete detto e avete vinto le elezioni dicendo queste cose. Però adesso... Adesso le vogliamo fare, non è di farle. Deficit e debito. Il desavanzo vuol dire quello che ogni anno è di troppo. Spendo più di quello che è. Il debito invece è quello che già abbiamo parlato. Adesso è l'interesse. Voi volete mantenere il 3%, restare dentro il tetto del 3%? Noi vogliamo rimanere dentro il 3%, ovviamente. Se poi sarà necessario chiedere uno sforamento, ci sono paesi che l'hanno fatto. Ma la nostra idea è restare dentro il 3%. Il punto è che tutti i paesi stanno lì a puntare il dito. Ah, Italia, guardate, sono i primi che lo fanno. Perché Francia e Germania l'hanno fatto. Però i paesi che l'hanno fatto non avevano un debito del 132%. Qui arriviamo alla questione del debito. Noi vediamo con un debito che non è stato fatto, chiaramente, ovviamente alla nostra classe politica. No, non importa, diciamo. E c'è qualcuno che è stato abbastanza bello, perché ci dicono a noi. Però scusi, scusi, no, adesso, senza sempre riportare il passato, anche quando si è arrivati all'euro, quelli che c'erano allora, cioè Prodi, ha detto, non è mai che l'ho fatto io il debito, l'hanno fatto tutti quelli di prima, eccetera. Però è stato ridotto il debito, prima di entrare nell'euro, di 15 punti, eccetera, una cosa del genere. Cioè, ciascuno dice il debito è un'eredità del passato, però bisogna affrontare questa. Voi pensate di affrontare la questione del debito con l'Unione Europea, non soltanto dicendo, perché avete detto, con la crescita. Però è chiaro che la crescita, per ridurre in modo consistente il debito, deve essere una forte crescita. Quella che ostichiamo. 3, 4, 5% in termini nominali, insomma. Però, insomma, è una cosa, vedremo, vedremo. Però, naturalmente, è una cosa da proiettare nel futuro. Anche qui tutti facciamo il tifo, è come i centri dell'impiego. Però, attualmente, il massimo di crescita che l'Italia può fare è un 2%, più l'inflazione, e sono 3%, insomma, no? Scusate, un attimo, vi devo interrompere per capire se c'è il nostro Massimo Leoni. Se posso andare un attimo da lui, prima di salutare l'onorevole Duva, chiedo alla regia indicazioni, perché vorrei andare dal nostro Massimo Leoni, che vorrei coinvolgere nella discussione, almeno nell'ultimissimi secondi. Non ho capito, scusate. Sì, ci sono. Ok, Massimo, ci sei, vai. Vengo da te per capire se hai una domanda per l'onorevole Duva, prima. Un paio di domande per... Rapide, perché poi dobbiamo salutarlo, per cortesia. Una riguarda la sua, rapidissima, la sua Sicilia e l'immigrazione. Che effetto le fa, diciamo, le fanno i primi passi di Salvini su questo, e se prevede che poi nel futuro della legislatura, con Salvini e la Lega, qualche contrasto con i 5 Stelle sorgerà su questo argomento, e magari su quello dei diritti civili. Fontana, il Ministro della Famiglia, ha detto delle cose, per esempio, sulle famiglie gay, che non credo che né la base né voi parlamentari di 5 Stelle condividiate pienamente. L'altra cosa volevo chiedere, i 5 Stelle hanno sempre messo il Parlamento al centro, diciamo, dell'attività legislativa. Adesso che siete maggioranza e governo, le leggi di iniziativa parlamentare le tratterete con lo stesso riguardo e attenzione, oppure cadrete, diciamo, nella tentazione di tutti i governi, di tutte le maggioranze da molto tempo a questa parte? Bene, vado? Posso? Sì, sì, prego. Dunque, iniziamo dalla prima. Noi ci siamo presentati con un programma in cui si parlava di stop al business dell'immigrazione. Si parlava del fatto che dobbiamo sicuramente cercare di far rispettare tutte le regole e fare in modo che i rimpatri possano essere fatti in maniera più veloce per quelle persone che ovviamente non hanno il diritto di stare qua, perché ci sono persone che devono venire qui, quelle che scappano dalla guerra, queste persone. Ce ne sono altre che invece, per le norme proprio che esistono, non hanno diritto e quindi bisogna muoversi in tal senso. Io sono di Messina, a Messina abbiamo pure un centro d'accoglienza, quindi sappiamo molto bene cosa significa tutto ciò. Per quanto riguarda invece le leggi di iniziativa parlamentare, qui va detto che noi vogliamo resistere a questa tentazione e sono sicuro che lo faremo, ma va detto che in realtà in questo momento, è quello che abbiamo detto anche sempre in campagna elettorale, scusate se torno su questo argomento, in questo momento ci sono più leggi approvate di quanto siano realmente attuate. Mi spiego, il Parlamento approva le leggi, dove vengono approvate deve arrivare al Governo che le deve attuare con i decreti attuativi. Ce ne sono tantissime che ancora non sono state attuate, quindi quello che dobbiamo evitare è di andare in Parlamento, riempirci la bocca dicendo abbiamo fatto una legge contro questo, una legge contro quello e poi non ci sono i decreti attuativi. Questo noi vogliamo evitarlo, quindi sicuramente bisogna far lavorare il Governo anche per cercare di smaltire un po' l'arretrato dei governi precedenti che non hanno attuato tutte le leggi che invece in Parlamento abbiamo approvato. E farsi amica la burocrazia ministeriale, onorevole, anche. Come? Sì, non è che io ho sentito la prima parola, scusa? Deve farsi amica la burocrazia ministeriale, perché se no le leggi hanno gambe corte. Vabbè, speriamo non sia necessario avere questi rapporti amicizia, ma basta lavorare e voler bene al Paese. No, no, in senso lato. Eh beh, sì, sì, ma... Siamo meglio tutti, insomma, se ne siamo da fare leggi. Grazie, grazie Massimo, grazie ancora all'onorevole Duva. Io faccio un cambio ad ospiti. A presto, buon lavoro. Grazie. Noi andiamo.